Musica Sabato 28 aprile 2023, buongiorno, ben ritrovati. Buon fine settimana dalla redazione di Teleregione. In apertura della nostra rassegna stampa abbiamo un servizio, seppur con l'incognita legata a maltempo, dal 1 maggio, ombrelloni aperti sulla costa molisana. Inizia ufficialmente la stagione balneare, ma in alcune zone del litorale sarà vietato fare il bagno. Il servizio è di Stefania Potente. Condizioni meteo permettendo, è tutto pronto per l'apertura di liti e ombrelloni sulla costa molisana. Dal 1 maggio partirà la stagione balneare, che si concluderà il prossimo 30 settembre, come stabilito dall'Aggiunta regionale. Sarà una stagione ricca di aspettative, dopo il boom di presenze registrato la scorsa estate. Peccato che non si potrà fare il bagno ovunque. In alcune zone della costa molisana sarà vietata la balneazione, come certificato sempre dall'esecutivo regionale, in base al campionamento delle acque, elaborato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Balneazione vietata all'imboccatura del porto turistico e vicino al fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia, e poi appetacciato nei pressi della foce del torrente Tecchio, a Termoli vicino alla foce dei torrenti Sinarca, Riovivo, Sevoci e alla foce del Biferno, oltre che all'imboccatura del porto. Off limits anche alla balneazione una parte del litorale di Campomarino, in particolare vicino alla foce dei fiumi Saccione e Biferno. Sulla base del monitoraggio, spiega il sottosegretario alla presidenza dell'Aggiunta regionale, Roberto Di Baggio, sono state puntualmente individuate le acque interdette alla balneazione e successivamente sono state fornite indicazioni ai comuni interessati sulle azioni da mettere in campo in alcune fasce specifiche del territorio. E poi una notizia si è spento. A 95 anni, Gilberto Fazzini, uno degli ultimi partigiani in vita in Regione, testimone molisano della resistenza. Il fratello Gianmarco venne trucidato dai fascisti. Fazzini, nonostante qualche problema di salute, non aveva voluto rinunciare a partecipare, allo scorso 25 aprile, alla cerimonia per festeggiare la liberazione. Sotto il monumento ai caduti c'era stato il comomente abbraccio con Michele Montagano, internato militare nei lager nazisti. In quell'occasione anche il sindaco Roberto Gravina aveva avuto modo di incontrarlo e salutarlo personalmente. Gravina ha espresso profondo dolore per la notizia della morte di Gilberto Fazzini. I valori che ha difeso e per i quali ha impegnato la propria vita sono quelli che la nostra città ha celebrato in sua presenza proprio lo scorso 25 aprile, ovvero quelli rivendicati attraverso la lotta di liberazione e della nostra nazione dall'anzifascismo e dalla dittatura. Alla famiglia Fazzini vanno le più sincere sentite condoglianze da parte dell'amministrazione comunale di Campobasso. E ancora una notizia. È morto ad 82 anni Nicola Magrone, ex magistrato e politico pugliese, dal 2003 al 2010 è stato capo della procura di Larino in Molise dove si è occupato tra l'altro delle indagini sulla morte dei 27 bambini e di una maestra nel crollo della scuola di San Giuliano di Puglia per il terremoto del 2002. Iniziamo la nostra rassegna stampa. Come sempre partendo dal regionale primo piano Molise nel taglio alto troviamo la politica. Pazzo centrosinistra, Gravina torna in pol per la presidenza, muta lo scenario nel campo largo, quattro nomi sul tavolo, nella rosa pure il giornalista Giannacone e il giudice Colucci di Giacomo Romano ribadisce no a scelte calate dall'altro. Centrodestra, Maroni incontra Salvini, pressing sugli alleati, subito il candidato governatore. Poi l'avete sentito anche in apertura della nostra rassegna stampa, Gilberto Fazzini ora riposa sotto l'ombra di un bel fiore, si è spento uno degli ultimi partigiani martedieri in piazza per la liberazione. Ancora nel centropagina, da DG a commissario, golla resta al vertice dell'Asrem, lo ha deciso la giunta Toma nel more della procedura concursurale, e debito post-sisma, intesa Regione Ims, risparmiati 34 milioni di euro. Nel taglio laterale, Palazzo da Immo, Cavaliere lascia l'assessorato Scarabeo, fuori dal Consiglio, intanto Cotugno aderisce al gruppo di Forza Italia. 118 Toma firma il decreto per tamponare l'emergenza, Campobasso, ostetricia del Cardarelli, da record 10 parti e 24 ore. Omicidio mecatrotta, nel fondo pagina, ascoltati altri testi, in aula compagna della vittima, Erris. L'intervista, Florenzio Annibale, stagioni indimenticabili di lotte per non morire. Nel taglio laterale, il punto, questa volta a firma di Claudio Pian, un altro Molise è possibile, ecco come. Il taglio alto è dedicato come sempre allo sport, Campobasso, domani contro il campo di Pietra, panchina per Rioio e Vanzan, Futsal, Kusla, Nebbia Molise in Veneto, per avvicinarsi all'obiettivo. Nella 2 Elite, Judo, Maria Centracchio, eletta nella Commissione Atleti, in seno a Legiu. Dal regionale molisano, primo piano Molise, ci spostiamo adesso sui quotidiani regionali abruzzesi, con la prima pagina del centro, nel taglio alto, l'Abruzzo, dal Benvenuto a Mattarella, il Presidente oggi all'Aquila, cerimonia di giuramento dei 1175 allievi della Guardia di Finanza. primo maggio nel centro pagina, senza feste, scontro, pescare il PD è un'occasione persa, il Comune ci prepariamo al Giro d'Italia. Nel centro pagina, l'Abruzzo guarda alla Polonia, 30 imprese pronte ad investire. Ancora nel taglio laterale, Abruzzo, ecco altri 70 migranti, ma nei centri mancano i posti. Ancora con i quotidiani regionali abruzzesi, questa volta con la pagina d'Abruzzo del Messaggero, nel taglio alto, sisma, sbloccati i 700 milioni, il commissario Castelli, i fondi per le nuove imprese, transizione ecologica e digitale, decolli il rilancio del cratere, l'Aquila, 20 milioni per la scuola dell'amministrazione, la visita, Mattarella oggi all'Aquila, al giuramento dei finanzieri, falciato da un'auto pirata, caccia alla Smart Scura, nel taglio laterale, città Sant'Angelo, il ragazzino non è più in pericolo, i filmati delle spy cam, per identificare l'investitore. Pescara, battaglia dei decibel, nel centro pagina, movi da i gestori dei locali, non spegnete la musica. Dai quotidiani regionali, ci spostiamo adesso a quelli nazionali, come sempre partendo con la lettura della prima pagina del Corriere della Sera. Nel taglio alto, bagarra la camera, poi il sì al DEF, sfiorata la risa, il PD lascia l'aula, il verde Bonelli ha un malore, il testo passa anche in Senato, lunedì il Consiglio dei Ministri. PIL, l'Italia cresce, più di Germania e Francia, Meloni, l'economia va bene, ora basta, Tafazzi, ancora nel centro pagina, Russia all'attacco, usati missili e droni, decine di morti, anche bambini, raid sulle città ucraine, e strage tra i civili. Nel taglio laterale, il caso, la vittima è una 36enne Milano, violentata alla stazione, fermato un uomo. Dal Corriere della Sera, uno sguardo anche alla prima pagina della Repubblica. Nel centro pagina, ratifica del MES, l'Europa assedia Meloni, pressing perché l'Italia ha voti l'accordo, è l'unico paese che manca, il monito dell'Unione Europea, rafforzerebbe la fiducia degli investitori. Giorgetti cerca di negoziare, a Parlamento serve uno scenario nuovo, la premiera all'inglese, gli stadi nel PNRR, evoluti da Draghi, il reddito di cittadinanza ad agosto, taglio e sussidi per 213 mila persone. Nel taglio alto, invece, i sindaci smantellata, l'assistenza per i più piccoli, Lampedusa e 300 minori rimasti soli. Ondata di missili russi contro il civile, Ucraina, il massacro dei bambini. Dalla Repubblica, uno sguardo alla prima pagina del messaggero. Nel taglio alto, economia l'Italia in crescita, l'Istat certifica l'incremento del PIL, già acquisito, più 0,8%, o meglio di Francia e Germania. Meloni, sono numeri oltre le stime, basta di sfattismo, spenderemo tutti i fondi del PNRR. La strage dei civili nel taglio laterale in Ucraina, torna l'incubo nelle città, attacco a Uman con le bombe visibili sui condomini, morti bambini ed intere famiglie. Nel taglio alto, stretta del Premier sui lavori parlamentari, DEF, bagare in aula con svenimenti, ma poi Camera e Senato approvano. Braccio di ferro sulla ratifica del meccanismo, mass pressing dell'Unione Europea sull'Italia. Giorgetti, ci sono altre priorità. Dal messaggero, uno sguardo anche alla prima pagina del tempo. Locomotiva d'Europa, nel taglio alto, l'Italia supera la Germania, la crisi non ferma le aziende, PIL del primo trimestre è più 0,5%, meglio di tedeschi e francesi. A Berlino, la produzione è invariata, da noi corrono tutti i settori, tengono consumi ed export. Meloni, sosteniamo chi produce ricchezza, Salvini, gufi battuti. Nel centro pagina, l'ex ministro Bonafede si ricicla, sarà membro della giustizia ordinaria. Muore, a 62 anni, senatore Augello, scompare un protagonista della destra romana, fu sottosegretario con Berlusconi. Nel fondo pagina, l'autopsia dopo la tragedia in Sardegna, l'ex fidanzato voleva salvare Giada dal suicidio. Nel taglio laterale, PD trasforma l'aula in un ring, bagarre alla Camera, alla fine il DEF è approvato. Decreto lavoro stop, reddito di cittadinanza, arriva l'assegno di inclusione. Poi, una news sull'internazionale di Roma, al via l'8 maggio, un'edizione record, ma non c'è Berrettini. Dal tempo, uno sguardo anche alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel centro pagina, trattative Stato mafia, e Salvini russi, le sentenze non cancellano i fatti, ma scusatevi voi, questione penale, morale. Nel taglio alto, invece, Governo, Meloni, vuol vietare le assenze, la destra rivolta il DEF, e deve ingoiare il MES. Lavoratori fregati, contratti vecchi, inflazione nuova, 6 milioni di vittime. Prima pietra a Genova, Salvini inaugura la diga, prima dei test geologici. Dal Fatto Quotidiano, uno sguardo anche alla prima pagina del manifesto. Strage di Uman, nel centro pagina, nella notte, bombe russe si abbattono sulla cittadina e in altre regioni dell'Ucraina. 25 civili uccisi nelle loro case, fra cui quattro bambini, l'Unione Europea, crimine contro l'umanità, Zelensky e Kuleba, chiedono più armi per rispondere al terrorismo russo. Mosca sostiene di aver colpito obiettivi militari. Nel centro pagina ancora la strage del 2023, già 196 vittime, ancora morti del lavoro. Ieri due decessi nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza. E poi ancora, intervista a Pierpaolo Bombardieri, serve il reato di omicidio. Nel fondo pagina, non sulla nostra pelle, in piazza dei migranti, sfida il DLQ tro Pablo Iglesias, Spagna verso le elezioni, la sinistra vuole unirsi, deve unirsi. Dal manifesto, uno sguardo anche alla prima pagina della verità. Nel taglio alto, Bergoglio loda le politiche pro famiglia avversate da Bruxelles, il Papa ungherese, stronca l'Europa sovietica e gender. Anziché processare Orban, Francesco a Budapest, mette sotto accusa l'Unione fluida che nega le differenze. Propone false libertà come l'insensato diritto all'aborto. Un discorso rivoluzionario silenziato dai media. Nel centro pagina, il re del jazz italiano, dal Covid all'ambiente, la sinistra non fa che steccare. Ancora nel centro pagina, la Mila Lonera di Sala, altro stupro in stazione. L'ennesimo episodio odioso, un nordafricano senza fissa di dimora è accusato di aver violentato una turista in un ascensore della centrale. la giovane franco-marocchina stava andando a prendere il treno all'alba. Dalla verità, uno sguardo anche al quotidiano economico del sole 24 ore. Nel taglio alto, Italia, PIL più 0,5%, nel trimestre meglio di Eurozona e Germania. Poi ancora Italia cresce, le imprese sono forti, sommesse, patto di stabilità, trattativa aperta. Ancora nel centro pagina, la guarda Gentiloni, il pressing sull'Eurogruppo, l'Italia ratifichi subito il MES. Wall Street scommette sul taglio dei tassi da 300 punti base. E poi nel taglio laterale, il voto finale, Def va libera in corsa, bagara alla Camera, l'opposizione cresce. Prima di chiudere come sempre uno sguardo anche al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport, nel centro pagina, il rinnovo di Rafa Leao, alle Aussie al Milan, raggiunto l'accordo con il club, Rafa alla firma, 7 milioni per 5 anni, vicino anche l'intesa con lo Sporting di Lisbona. Le 18 in casa della Roma e contro Mourinho, uno spareggio per la Champions League. Ancora le altre notizie, nel fondo pagina, la grande attesa per domani, un'altra stagione con Osime nel piano del Napoli. Poi, presidente, la partita spostata, la delusione di Ervolino, Serenitana penalizzata, non saremo comparse. Nel taglio laterale, bonus per la squadra e staff, Inter superpremio antidiavolo, Zhang mette sul piatto 2 milioni per l'Eurodebby, vuole la finale di Istanbul. Poi ancora, stasera, il duello tra Vlasic e Pasalic, l'Europa di Toro Atalanta, passa da una sfida croata. Nel taglio alto invece c'è la Formula 1, il cavallo rinasce a Baku, il cavallino rinasce a Baku, domani parte davanti, oggi la sprint alle 15.30, Lampo Rosso, Magia Leclerc, e Paul, io amo la Ferrari. Prima di chiudere, diamo lettura anche del nostro palinsesto, alle ore 11, conto alla rovescia, alle 13, speciali progetto Polis italiana, alle 14, le nostre informazioni con il telegiornale, alle 16, conto alla rovescia, alle 18.30, ti racconto il Molise, Frosolone, alle 19.30, ancora la nostra informazione con il telegiornale, alle 21, sit-in, sindaci molisiani a Roma, alle 22, Paese mio, Ripalimo Sani, prima parte, alle 23, l'ultima edizione del nostro telegiornale. Non mi resta che salutarvi, vi ringrazio per averci scelto, tutti voi, un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.